Il famoso caso del vampiro serbo Plogoyovic, avvenuto nel 1725 e documentato nel rapporto conservato presso l'Archivio di Stato di Vienna. Il responsabile della stesura del rapporto fu Erfroman, provveditore del distretto di Gradisca. Che condusse un'inchiesta su questo presunto caso di vampirismo. Peter Plogoyovic era un contadino serbo del villaggio di Chisilova, in Rezia. Dopo la sua morte e sepoltura, altre nove persone morirono nel giro di qualche settimana. Prima di perdere la vita. Queste persone dichiararono che Plogoyovic le aveva attaccate di notte cercando di soffocarle. La vedova di Plogoyovic rivelò che il marito l'aveva visitata anche a lei, chiedendole i propri sandali per lasciare il villaggio. Queste circostanze generarono una grande paura tra gli abitanti del luogo, che chiesero l'esumazione del corpo. Il provveditore Froman, insieme a alcuni abitanti di Chisilova e al Pop di Gradisca, presenziò all'apertura della tomba. La scoperta del corpo di Plogoyovic confermò le convinzioni popolari sul suo presunto stato di vampiro, il cadavere non era in decomposizione, non emanava cattivi odori e la pelle risultava fresca con le unghie che erano ricresciute, quelle vecchie erano cadute. Sorprendentemente. Froman annotò che dalla bocca del morto usciva sangue fresco, una scoperta che rafforzò la convinzione dei suoi compaesani che Plogoyovic succhiasse il sangue delle sue vittime. In seguito a ciò, gli abitanti di Chisilova decisero di trafiggere il corpo con un palo appuntito. Il resoconto di Froman descrive l'evento in questo modo, non solo una grande quantità di sangue fresco è fuoriuscita dalla bocca e dalle orecchie, ma si sono verificati anche altri segni, che ometto, punto. Infine, secondo la pratica comune, il corpo venne bruciato. Froman, nel suo rapporto, chiede se si sia commesso un errore e sottolinea che non è responsabile, ma che la folla, spaventata, era fuori controllo. Il caso Plogoyovic divenne celebre in tutta Europa e fu incluso nel trattato di Kalmet. È importante sottolineare che questo documento segna la prima apparizione del termine «vampir». Nel racconto di More fornito dal barber si narra di un ricco calzolaio di Breslavia che si tolse la vita. Per mantenere segreta la morte. I familiari pagarono un'anziana donna per ricucire la ferita in modo che fosse invisibile. Il calzolaio fu sepolto con grandi cerimonie, ma presto si sparse la voce che si fosse ucciso. Il consiglio cittadino decise di fare qualcosa per scacciare lo spettro che iniziò a manifestarsi. Dopo otto mesi, il corpo fu esumato e trovato intatto e gonfio come un tamburo, ma con le membra ancora mobili. Il corpo fu poi tagliato, bruciato e le ceneri furono gettate nell'acqua corrente. Questo racconto fornisce un esempio classico di Revenant. Anche se mancano alcuni segni tipici del vampirismo come l'aggressione alle vittime per succhiare il sangue. Tuttavia, la descrizione del cadavere e le pratiche utilizzate per distruggerlo sono indicative del lotta contro i vampiri. Un fatto interessante presente nel racconto riguarda l'attenzione rivolta alle ceneri e alle ossa per evitare che venissero utilizzate per pratiche di magia nera da streghe e negromanti. Questo aspetto non è comune nel folclore sul vampirismo. Dove il legame tra i non morti e l'universo della stregoneria non è evidenziato. La storia di Pietro Plogoyovitz. Il racconto originale fu pubblicato da un vicario imperiale austriaco nel 1725 e successivamente tradotto in altre lingue subendo modifiche e abbellimenti. Plogoyovitz morì di una malattia misteriosa e nove persone morirono poco dopo, dichiarando che Plogoyovitz li aveva soffocati nei loro sogni. La storia di Plogoyovitz mette in evidenza le caratteristiche fisiche dei vampiri come il corpo non decomposto, i capelli, la barba e le unghie che continuano a crescere. Dopo l'esumazione del corpo di Plogoyovitz, si osservarono anche altre caratteristiche come l'assenza di odore di morte, la freschezza del corpo tranne per il naso, la crescita dei capelli, la barba e le unghie. E l'emergere di una nuova pelle al di sotto della vecchia. Inoltre, sulle labbra del morto si notò la presenza di sangue fresco, che fece sospettare che avesse succhiato il sangue delle persone che aveva ucciso. La storia culminò con la perforazione del cuore del vampiro e la sua combustione. In conclusione, questi racconti presentano elementi caratteristici del vampirismo come i cadaveri che continuano a decomporre, la crescita dei capelli e delle unghie, e la presenza di sangue sulle labbra. Tuttavia, vi sono differenze tra i racconti. Come l'attenzione alle ceneri e alle ossa nel primo racconto e la credenza che la prima persona a morire sia responsabile delle morti successive nella storia di Plogoyovic.